Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale ci aiuteranno a fornirvi, 7 giorni su 7, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Kate Middleton è tornata a casa dalla sua famiglia e dai suoi figli per trascorrere la convalescenza con i suoi cari, assistita dalle infermiere e con il sostegno dei genitori e dei fratelli. Sulle ragioni dell'operazione subita da Kate e sulla sua patologia, molte persone si sono espresse, tra esperti e giornalisti. Questo perché la famiglia reale ha voluto mantenere il riservo, su richiesta della principessa dei Galles, che ha ritenuto importante per la sua tutela e quella dei suoi figli. Tuttavia, questa decisione ha alimentato numerose ipotesi. Qualche settimana fa, una nota giornalista spagnola ha suscitato polemiche dichiarando durante una trasmissione iberica che la futura regina era stata intubata e messa in coma farmacologico, sostenendo che la sua vita fosse stata in grave pericolo. Cleia è un'esperta di cronaca investigativa e di famiglie reali, che ha affermato di aver ricevuto questa informazione da una fonte di Buckingham Palace. Ha aggiunto che la moglie dell'erede al trono era stata ricoverata il 28 dicembre e che la sua casa era diventata una sorta di ospedale. Tuttavia, il primo febbraio scorso, è apparsa una smentita da parte di un portavoce della coppia reale. Il dottor Boni, direttore di chirurgia generale e mininvasiva del Policlinico di Milano, ha confermato che la nuora del sovrano è stata effettivamente intubata. E voi, cosa ne pensate di questa vicenda? E perché la famiglia reale non vuole svelare le vere condizioni di salute di Kate Middleton? Esprimete la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie